Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo film che ho recuperato e sto parlando di Odini l'ultimo mago dove racconto la storia di Odini con Catrice, Zeta Jones e Guy Pearce ecco qua, questa è la versione legge del Blu-ray, Odini l'ultimo mago, questa è la copertina ecco qua, poi abbiamo il laterale, Odini, qui abbiamo il retro, Odini l'ultimo mago qua c'è un po' di trama, alcune immagini del film, varie informazioni senza contenuti speciali purtroppo, film per tutti, fu l'HD 1080p, andiamo a vedere come ha fatto l'interno, ecco qui se non c'era questa cosa qui era meglio, c'era solamente questa retro copertina con il logo era molto meglio, qui abbiamo il disco, e niente ragazzi, mettetevi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti belli ciao